bella raga sono teff e oggi volevo analizzare con voi l'ultimo spoiler che è uscito da mondo globe che sarebbe quello della lucanet che ormai penso abbiate già visto tutti se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione comunque anche in questo video ve lo farò vedere il video praticamente volevo chiedervi se per voi luca e marinette siano andati a stare insieme o se preferite marinette con adrion e magari ditemi anche se preferite cioè non se preferite ma se pensate che nella ultima stagione che penso sia la quinta di miraculus l'ultima ship sarà adrion con marinette o marinette con luca ditemi voi cosa ne pensate io penso che sia ovviamente alla fine marinette con adrion però magari hanno fatto vedere questa questo trailer con marinette luca giusto per allungare la storia diciamo ho letto alcuni vostri commenti in cui dite che volete vedere marinette con adrion e luca con kagami no questo no è impossibile cioè secondo me non ha neanche senso come copie c'è marinette adrion va bene ci può stare però luca con kagami no kagami katami chiamatela come vi pare non l'ho non l'ho mai capita la differenza quale sia quello giusto quale sia quello sbagliato scrivetemi qui sotto se si chiama kagami o katami e niente volevo anche precisare questo appunto è bella raga a e mi sono scordato di dire un'altra cosa è uscita questa foto che ha caricato sempre mondo club che penso sia per il prossimo episodio che dovremmo vedere o comunque della quarta stagione e tranquilli che loro non riescono a vedere i kagami perché non sono riprendibili con i computer eccetera quindi non vi spaventate mi sono spaventato anche io la prima volta e niente ditemi cosa ne pensate è veramente bella raga